L'ordine di lasciare fuggire a alcuni dei responsabili del genocidio dei Tuzzi in Ruanda nel 1994 arrivò direttamente dal governo francese. A dimostrarlo sarebbe un telegramma riservato del Ministero degli Esteri, di cui il sito francese Mediapart è entrato in possesso. I fatti incriminati risalgono al 15 luglio del 1994. Quel giorno, alcuni membri del governo responsabile del massacro dei Tuzzi si trovano in una zona umanitaria controllata dall'esercito francese, stando all'ONU, nei tre mesi precedenti erano state uccise almeno 800.000 persone, soprattutto della minoranza Tuzzi, massacri compiuti in prevalenza dagli Utu. L'ambasciatore francese in Ruanda Yannick Gerard scrive al Ministero degli Esteri, qualunque siano le difficoltà, si legge nel suo telegramma, non abbiamo altra scelta che arrestarli o metterli immediatamente agli arresti domiciliari, fino a che i tribunali internazionali non si pronunceranno sul loro caso. Ma dal Ministero, occupato all'epoca da Alain Juppé, arrivano altre istruzioni. Potete utilizzare tutti i canali indiretti e soprattutto i contatti africani senza esporvi direttamente, per far trasmettere alle autorità il nostro desiderio che lasciano la zona umanitaria sicura. A firmare il telegramma è Bernard Demier, all'epoca consigliere del Ministro e attualmente capo dei servizi segreti esteri francesi. Il documento proviene da archivi inediti a quali il ricercatore François Granère ha potuto accedere dopo una lunga battaglia legale. Le autorità francesi hanno lasciato partire gli autori del genocidio senza arrestarli, anche se l'ONU non si era pronunciata sul loro caso. Invece di tenerli a disposizione della giustizia internazionale, gli hanno permesso di lasciare la zona controllata dall'esercito, sapendo bene che erano gli organizzatori del genocidio dei Tutsi. L'inchiesta giudiziaria sull'Operation Turquoise, condotta dai francesi sotto l'egida dell'ONU, è tuttora in corso. Alcuni sopravvissuti accusano i militari francesi di avere consapevolmente abbandonato centinaia di Tutsi nell'ovest del paese. Eduard Balladour, primo ministro all'epoca, ha annunciato all'inizio di gennaio la prossima apertura dei suoi archivi su Ruanda.